Buonasera, ben ritrovati, spero che abbiate passato una buona Pasqua, noi discretamente, un giardino, niente di che. Siamo qui al nostro terzo appuntamento per proporvi un nuovo gioco cognitivo fatto in casa, semplicemente, questi sono i chicchi da utilizzare, semplicemente utilizzando dei vasetti. Qui c'erano vasetti da giardinaggio, qui c'erano dei gerani e prendete la risorsa alimentare, la nascondete sotto il vasetto capovolto, utilizzate poi due vasetti, tre vasetti, quattro vasetti e così via. L'importante è mettere la risorsa sempre sotto un vasetto solo. Il cane andrà a cercare in quale dei vasetti si troverà il chicco oppure direttamente li potrà anche scoprire tutti per semplice curiosità. L'importante è che non distrugga e l'importante è che al solito si chiude in maniera positiva, quindi che riesca ad approvvigionarsi del cibo che nasconderete sotto uno dei vasetti. Per farlo un pochettino più bellino evitate magari di farlo davanti al cane. Io qua davanti ci oscilla, me ne è in giardino, adesso che nasconderò il cibo cercherò di farlo mettendomi di spalle. Ok? Potete iniziare anche con due vasetti, con tre come vi pare. L'importante al solito è che la risorsa la mettete sotto più. Potete muovere sempre tutto. Ovviamente il pavimento è molto scivoloso, lo potete fare anche fuori, in giardino se volete questo gioco. Scilla, cerca e poi mandate il vostro cane in ricerca. Ecco, botta sicura, la mangione che non è altro, ha senti evidentemente la scia andava proprio su quel vasetto ed è andato direttamente sul vasetto esterno. Ha trovato il cibo, se ne ha approvvigionato, è andato sul secondo, per sicurezza l'ha scoperto, il terzo evidentemente ha capito che non c'è appunto niente e quindi nemmeno l'ha guardato. Risparmio di energie, proprio come ragione un cane. Ok, questo è un gioco molto semplice che potete fare in casa tutti. Se ci sono domande, al solito contattatemi, continuate a mandarmi i video che mi mandate dei giochi che vi propongo. Siete fantastici e speriamo di vederci presto. Ciao! Allora 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 Grazie a tutti.